Siamo qua con Luca Carlo Iacopo, poltire della Cogonnese, subito due parole a caso dopo questa bellissima vittoria, la quinta di fila per la Cogonnese. È stata una partita molto difficile, all'inizio abbiamo un po' faticato, però alla fine siamo riusciti a sbloccare al secondo tempo, in merito i miei compagni che ci hanno creduto tutta la partita, è una buona vittoria per il gruppo, per tutto, andiamo avanti adesso. Dicevamo quinta vittoria di fila, la classifica adesso sorride dopo una partenza abbastanza ad handicap della Cogonnese, ora le prossime due trasferte, Marassa è superba. Eh sì, adesso andiamo a giocarci queste partite con due squadre di alta classifica, ma non abbiamo nulla da perdere, andremo a giocarcela come abbiamo fatto finora e speriamo di far bene per riuscire magari a fare quel salto di qualità in più che ce lo meritiamo a questi punti di restare là in cima, diciamo.